Ciao e benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video parleremo dei mercatini di Natale, il fascino dell'inverno altoatesino. I mercatini di Natale dell'Alto Adige, situati tra le maestose vette delle Dolomiti, offrono un'esperienza natalizia straordinaria e indimenticabile. Questa regione dell'Italia settentrionale si trasforma in un mondo incantato durante la stagione invernale, con i suoi mercatini che emanano un'atmosfera magica e un fascino tradizionale. Le pittoresche città e i villaggi dell'Alto Adige accolgono visitatori da tutto il mondo nelle loro piazze decorate con luci scintillanti, bancarelle di artigianato locale e deliziose prelibatezze culinarie. I mercatini di Natale altoatesini non sono solo luoghi di shopping natalizio, ma anche centri di convivialità e tradizione dove immergersi nell'affascinante spirito natalizio delle montagne italiane. Scopriamoli nel dettaglio. 1. Mercatino di Bolsano, Bozen. Il mercatino di Bolsano, conosciuto anche come Bozner Chris Kindle Market, è indubbiamente uno dei gioielli dei mercatini di Natale dell'Alto Adige e un'incantevole attrazione per i visitatori durante la stagione invernale. Questo mercatino, situato nel cuore di Bolsano, cattura l'essenza del Natale con la sua atmosfera vibrante e festosa. Le bancarelle di legno addobbate con cura si allineano nelle strade della città, offrendo una vasta gamma di prodotti artigianali, tra cui giocattoli di legno, candele profumate, decorazioni natalizie tradizionali e oggetti unici perfetti per i regali. I visitatori possono passeggiare tra le vie del mercatino immersi nell'aroma avvolgente del vin brulé, una bevanda calda tipica delle festività, e gustare deliziosi piatti tradizionali altoatesini. La piazza Walter, nel cuore del mercatino, ospita un maestoso albero di Natale illuminato, creando una scenografia incantevole e offrendo uno sfondo perfetto per foto indimenticabili. Gli spettacoli musicali dal vivo e le esibizioni di gruppi folk locali aggiungono un tocco di magia all'atmosfera, regalando un'esperienza natalizia autentica. Il mercatino di Bolzano è una destinazione ideale per immergersi completamente nello spirito natalizio, scoprire l'artigianato locale e assaporare le prelibatezze culinarie e regionali, rendendo così il Natale ancora più speciale per chiunque vi faccia visita. 2. Mercatino di Merano, Meran. Il mercatino di Natale di Merano è una gemma dell'Alto Adige che aggiunge un tocco magico all'atmosfera invernale di questa incantevole città. Posizionato lungo le rive del pittoresco fiume Passirio e circondato dalle maestose montagne, questo mercatino offre un'esperienza natalizia unica e indimenticabile. Le bancarelle del mercatino sono piene di gioielli artigianali, oggetti di vetro soffiato, giocattoli di legno e una vasta selezione di decorazioni natalizie tradizionali, permettendo ai visitatori di trovare regali speciali per i propri cari. Il profumo avvolgente del vin brulee e delle specialità culinarie locali, come gli strudel di mele, le salsicce tirolesi e i dolci tipici, avvolge i visitatori mentre si immergono nell'atmosfera festosa. Ciò che rende davvero speciale il mercatino di Merano è il suo scenario naturale straordinario. Le montagne circostanti creano uno sfondo spettacolare e le luci scintillanti del mercatino si riflettono dolcemente sulle acque del Passirio, creando una cornice davvero magica. 3. Mercatino di Bressanone, Brixen Il mercatino di Natale di Bressanone, situato nel cortile vescovile di una delle città più antiche dell'Alto Adige, è un luogo affascinante che trasporta i visitatori in un mondo di tradizione e magia natalizia. Questa incantevole città, circondata dalle vette delle Dolomiti, offre una cornice straordinaria per questo mercatino pittoresco. Le bancarelle di legno addobbate con cura sono ricche di prodotti artigianali, tra cui giocattoli di legno finemente lavorati, candele profumate e decorazioni natalizie fatte a mano. I visitatori possono trovare regali unici e autentici per amici e familiari, creando un'atmosfera di amore e condivisione durante la stagione natalizia. Il cortile vescovile, con il suo fascino storico, offre uno sfondo perfetto per questo mercatino, che è intriso di tradizione e autenticità. Le luci soffuse e le decorazioni natalizie creano un'atmosfera intima e magica che incanta chiunque lo visiti. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. 4. Mercatino di Vipiteno, Sterzing Il mercatino di Natale di Vipiteno, noto anche come Sterzinger Christkindmarkt, è un tesoro incastonato tra le pittoresche strade di Vipiteno, una cittadina dell'Alto Adige famosa per le sue case colorate e le stradine acciotolate. Questo mercatino offre una straordinaria esperienza natalizia, immersa nella tradizione e nell'atmosfera accogliente delle Alpi. Le bancarelle addobbate con cura presentano una vasta selezione di oggetti artistici, prodotti locali e decorazioni natalizie uniche, ideali per i regali di Natale. Tra le delizie culinarie tirolesi potrete assaporare i piatti tipici, come lo strudel di mele, le salsicce speziate e il vin brulé, che contribuiscono a rendere questa esperienza ancora più autentica. L'atmosfera natalizia di Vipiteno è amplificata dalla scenografia delle montagne circostanti e dalle luci scintillanti che adornano il mercatino. Gli spettacoli musicali e le rappresentazioni teatrali aggiungono un tocco di magia all'evento, creando una calda e coinvolgente atmosfera che rapisce i visitatori. 5. Mercatino di Ortisei Sant Ulrich Il mercatino di Ortisei, noto anche come Sant Ulrich in lingua tedesca, è una perla nascosta situata nella suggestiva Val Gardena, incastonata tra le maestose Dolomiti. Questo pittoresco mercatino di Natale offre un'esperienza unica per i visitatori, grazie alla sua affascinante posizione montana. Le classiche bancarelle natalizie offrono una vasta gamma di prodotti artigianali, decorazioni natalizie tradizionali e prelibatezze culinarie e locali. Tuttavia, ciò che rende davvero speciale Ortisei sono le sue sculture in legno e i prodotti artigianali. La Val Gardena è rinomata per i suoi maestri artigiani del legno che creano opere d'arte uniche con maestria ed edizione. Durante il mercatino è possibile ammirare queste sculture e acquistarle come souvenir straordinari o regali speciali. L'atmosfera incantevole e autentica di Ortisei, circondata dalle vette imponenti delle Dolomiti, rende questo mercatino un luogo ideale per immergersi completamente nello spirito natalizio e scoprire l'arte e la cultura artigianale della Val Gardena in un contesto mozzafiato. 6. Mercatino di Brunico, Brunec. Il mercatino di Natale di Brunico, situato nella suggestiva cittadina altoatesina con il suo maestoso castello medievale, è un luogo magico che cattura l'essenza del Natale in un contesto affascinante. Questo mercatino offre ai visitatori un'esperienza natalizia indimenticabile. Le bancarelle addobbate con cura presentano una vasta selezione di regali, decorazioni natalizie e prodotti artigianali locali. Dagli oggetti fatti a mano alle sculture in legno e alle ceramiche artistiche c'è qualcosa per tutti i gusti. I visitatori possono trovare regali unici e autentici da portare a casa. L'atmosfera natalizia di Brunico è accentuata dalla presenza del castello medievale, che si erge come uno sfondo spettacolare. Le luci scintillanti, i profumi del vin brulee e delle specialità culinarie regionali, come lo strudel di mele e le salsicce tirolesi, creano una calda atmosfera natalizia che avvolge i visitatori. 7. Mercatino di Caldaro, Caltern. Il mercatino di Natale di Caldaro, o Calterer Christkindlmarkt, è una gemma nascosta dell'Alto Adige che offre un'esperienza natalizia romantica e incantevole. Situato sulle rive del pittoresco lago di Caldaro, questo mercatino è noto per la sua posizione unica e suggestiva. Le bancarelle natalizie, illuminate da luci scintillanti, creano una scena da fiaba che si riflette delicatamente sull'acqua del lago, regalando un'atmosfera davvero magica. I visitatori possono passeggiare lungo le sponde del lago, immergendosi nell'atmosfera natalizia e ammirando il riflesso delle luci. Il mercatino offre una varietà di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze culinarie locali, tra cui il vin brulee, i biscotti natalizi e i piatti tradizionali altoatesini. È il luogo ideale per trovare regali unici e gustare le specialità regionali in un'atmosfera romantica e suggestiva. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.